Benvenuti, questo è il canale YouTube collegato con Mondo Cinifilo. Ma cos'è Mondo Cinifilo? Beh, come si può intuire dal nome, Mondo Cinifilo non è né un blog né un canale dedicato al mondo delle barbi. Quindi, Mondo Cinifilo è un canale e un blog che ha a che fare con il mondo del cinema, quindi recensioni, classifiche, monografie, articoli di vario genere sul mondo del cinema. Il link del blog lo metto in descrizione, comunque, mondocineifilo.wordpress.com E una domanda in voi può sorgere spontanea. Sì, ma che palce nel senso, cosa ci interessa di tutta questa roba qui? Cosa hai fatto a fare questo video? Bellissima domanda. Spettatore rompicoglio. Questo primo video l'ho ideato per mettere in mostra quelle che sono le mie abilità da regista, oltre che per presentarmi. Qualche tempo fa ho pensato di catturare quelli che sono i momenti principali della mia vita con il mio cane, Tutto, che adesso è la che sta dormendo. In questo filmato, che dura 6-7 minuti, non di più, ci sono degli errori. Però, vabbè, era ovvio, dato che l'ho registrato con il mio Samsung Galaxy S3 con il quale mi sto fresciando la faccia. Errori del tipo dita davanti alla telecamera, ombra per terra. Insomma, errori che, con un minimo di esperienza e con attrezzature adeguate, sarebbero stati evitabili. Anzi, più che evitabili. Vabbè, ognuno si arraggia con quello che ha e vuol telefono sotto il telefono. E quindi adesso... Ah, non d'altro da dire, tranne che mi è appena venuta un'idea. Quest'idea è... Perfattemi sapere se vi piace sotto nei commenti. L'idea è... Cosa ne dite se una volta ogni 2, 3, 4 settimane poi si decide in seguito? Se faccio un excursus della storia del cinema dai primordi, dei fratelli Lumière e di Miliès, per dire, fino ai giorni nostri. Quindi, fino al 2014, 2015, 2016, 2050, dipende quando vedrete questo video. Cosa ne dite? Se è un'idea che vi può garbare, fatemelo sapere. Ditemi se invece è un'idea che lasciamo perdere, fatemelo sapere comunque. Detto questo, filmato. Cosa è un'idea che vi può fare, fatemelo sapere. Cosa è un'idea che vi può fare, fatemelo sapere. Cosa è un'idea che vi può fare, fatemelo sapere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.